abbiamo con noi quest'oggi un ospite un ragazzo alle prime armi così lo possiamo dire ma che ha tanta passione dentro e tanta voglia di emergere parliamo ovviamente di musica con Filippo Bianchi in arte Phil ciao benvenuto a Radio Bruno ciao salve a tutti allora sei qui con noi per presentarti innanzitutto ci fai conoscere chi sei e soprattutto cosa vuoi portare al mondo della musica vogliamo parlare di te diciannove anni di Montopoli Valdarno quindi di Pisano della provincia di Pisa la passione per la musica il canta autorato da quando è nata questa cosa? Diciamo che la passione per la musica l'ho sempre avuta dentro però ho comprato la mia prima chitarra elettrica a 14 anni ho cominciato a suonarla da autodidatta e pian piano è diventata la mia vita ecco quindi anche anche musica insomma suonata non soltanto cantata ecco quindi suoni e canti hai fatto delle scuole oppure sei autodidatta al cento per cento sono autodidatta al cinquanta per cento perché i primi anni ho studiato da solo lo strumento e una volta finito il liceo ho cominciato a studiare regolarmente e tuttora studio. Allora parliamo di questo progetto importante che è già un video lo possiamo dire che tutti possono andare a vedere parliamo del il passato non sa perdere facci un po' una presentazione di questo tuo primo singolo. Certamente è una canzone che ho scritto qualche tempo fa e appunto parla di me è una canzone autobiografica e la persona che amavo mi ha deluso e quindi una sera in casa mia guardando fuori dalla finestra imbracciando la chitarra ho cominciato a a buttare su su qualche accordo quello che avevo passato quello che avevo vissuto e è uscita fuori questa canzone che penso che che si spieghi molto bene anche da sola. Poi da da questo buttar giù due parole su un fogliaccio come è nata la vera e propria canzone stessa? La canzone è nata grazie alla vittoria di un concorso che ho fatto dopo aver finito il liceo in cui Iskra Minarini era la presidente di giuria la la famosissima corista di di Lucio Dalla. Una volta vinto il concorso mi hanno proposto di lavorare nel loro team Iskra e una casa discografica indipendente di Bologna alla San Luca Sound che mi ha appunto permesso di di registrare queste canzoni e questo singolo e niente è stata un' esperienza molto bella anche inaspettata perché non pensavo di arrivare così in fretta a a registrare le mie canzoni di fare un videoclip e di e di uscire in qualche modo discograficamente. Ecco i tuoi progetti come diciamo come gavetta che ormai sicuramente dovrei fare comprendono anche altri concorsi o per il momento ne hai fatto hai fatto solo questo? No 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 non mi sono fermato assolutamente ho fatto altri concorsi fra cui il festival show per cui sono arrivato in finale ma non sono riuscito a entrare nei dodici che partecipano al tour estivo è stata una bella esperienza anche quella molto professionale e adesso ho altri concorsi e altre date live fra cui quella del 25 maggio a Pisa al Borderline Club e un live al Flossi locale di Prato. Ecco quindi hai un sito di riferimento magari una pagina Facebook dove ti possiamo seguire per sapere un po' e per iniziare a conoscerti per i tuoi live? Ovviamente sono su tutti i social network Facebook Twitter Instagram MySpace il video del passato non sa perdere lo trovate su YouTube il singolo è scaricabile da iTunes quindi meglio di così cercatemi e mi trovate dappertutto. Allora senti i progetti importanti tipo una prova te la butto lì per il festival di Sanremo per i giovani ci stai lavorando è un tuo sogno oppure per adesso vuoi fare altre cose? No 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 ci sto lavorando assolutamente è un mio sogno e cercherò di realizzarlo senza dubbio. Ti sei fermato qui o hai già qualcosa di scritto pronto nel cassetto per altri dischi? Ho una valanga di idee tantissime canzoni scrivo ormai da anni non mi fermo continuo e non mi ferma nessuno. Ecco quindi magari presto farai anche un bene proprio disco? Molto probabile certo ho già in cantiere un altro singolo a breve quindi di novità ce ne sono ci sono tante cose che bollono in pentola. Perfetto allora non ci resta che ascoltare il tuo brano che leghiamo qui in coda e per farti conoscere lo hai detto ci hai dato tutte le coordinate e noi intanto ti facciamo il nostro in bocca al lupo e perché no ci risentiamo poi per qualche data importante per qualcosa che farà anche in Toscana durante l'estate. Molto volentieri mi piacerebbe tantissimo. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi ciao a tutti.